Benvenuti ad una nuova puntata di No Ferriara in compagnia di Maurizio Fogar del Circo Lomiani. Iniziamo con la prima domanda di quest'oggi, con il commentare, la rifida che c'è stata da parte della regione sugli sforamenti acustici. Posso ridere? Probabilmente una risata li sommergerebbe, come si diceva nel 1968, una risata vi sommergerà. Ma scusate, questi hanno chiesto la proroga per i lavori al 15 aprile. La regione Ievili comunica che hanno 20 giorni di tempo per contraddurre alla difesa. Avete un calendario? Allora, provate a fare dal 22 marzo 20 giorni, se non è 15 è qualche giorno prima di aprile. Per cui è come aver concesso la proroga. Le basta come commento? Nei giorni scorsi l'ARPA ha fornito i dati sugli inquinanti relativi al secondo semestre del 2015, con dei dati non confortanti. Se ne vuole spiegare? Direi niente di nuovo sotto il sole. Abbiamo già detto, ma da mesi e mesi, che il 2015 era paragonabile al 2008 come anno orribilis per l'inquinamento emesso dalla feriera. Il piccolo giornale ha per di più sbagliato il livello degli sforamenti, perché sul sito dell'ARPA non sono 125, ma la bellezza di 150 netti, tenendo conto su 365 giorni, tenendo peraltro conto che più della metà del perimetro o dello stabilimento non ha alcuna centralina che monitori la situazione dell'inquinamento. E per cui quando il vento tira in quella direzione risulta che la feriera è a norma. Ma non è assolutamente vero se nessuno misura, se non c'è nulla per misurare. Vorrei anche dire, poi magari se volete ne parliamo più diffusamente, che noi assistiamo veramente sgomenti allo spuntare di candidati, liste di ogni tipo, di ogni genere, che hanno la feriera, l'emergenza feriera come aspetto principale. Qui voglio sprecare un minuto per l'amico Marino Sossi. Marino Sossi insieme ad altri di diversa provenienza politica capeggia una lista che si richiama la sinistra italiana, quella nazionale promossa da Vendola e altri, Excel per capirsi, e si batte a parole ora come un leone contro la feriera. Però è un leone dalla memoria corta, perché non più tardi di sei mesi fa, con il suo voto determinante, lo ripeto, voto determinante alla conferenza dei capigruppo in comune, ha avvallato la scelta di Cosolini di bocciare la discussione in aula della petizione sottoscritta da 10.280 triestini, che chiedeva l'immediata chiusura dell'area caldo della feriera, la petizione promossa da Circo Lomiani. Non solo, la settimana dopo alla conferenza di capigruppo il suo voto è stato sempre determinante sulle orme del PD per non concedere l'urgenza alla mozione fatta da alcuni altri consiglieri d'opposizione che faceva propria la petizione per poterla discutere almeno sotto questa forma in aula. Per cui sa, uno che ha fatto la stampella per 4 anni e 9 mesi a questa amministrazione ed è stato determinante pochi mesi fa su questi due casi che vi ho appena raccontato, sono fatti, chiunque li può verificare sui verbali del comune, che oggi si presenti come l'eroe della chiusura della feriera, sinceramente manca solo che l'ex assessore all'industria Omevo candidi con loro, visto che era l'uomo che per un anno e mezzo finché era assessore definiva un giorno sì e l'altro pure strategica la feriera di Lucchini, quella passata alla cronaca ora come il rottame, copyright Cavalier Arvedi. Capiamo argomento, senta Fogar, domenica scorsa vi siete riuniti al Circolo Miani, di cosa avete discusso? Ma abbiamo discusso della campagna elettorale, guardi per me è stata una sorpresa, nella sorpresa devo dire che a 63 anni sono molto piacevolmente sorpreso, perché la domenica delle palme alle 16 del pomeriggio aveva quasi una cinquantina di persone dei nostri, erano invitati i candidati ovviamente, presenti in sede a discutere per oltre tre ore, beh una cosa che devo dire mi inorgoglisce, mi fa ben sperare e mi fa guardare con certa sufficienza altre liste, altri partiti anche molto più importanti almeno per nome e storia. Abbiamo discusso per esempio una prima cosa pratica, che ogni sabato da qui al 30 maggio, cioè 10 sabati e iniziamo questo sabato 26 marzo, dalle ore 16 alle ore 19 e 30, i candidati della lista più altri volontari saranno in via delle torri, lato piazza San Giovanni, con la mostrar fotografica, col tavolino, con la distribuzione di pieghevoli di materiale informativo, soprattutto per ascoltare e parlare con i cittadini, per fare compagna di pubblicità e di informazione, visto che a parte Teleantenna, il piccolo giornale Telequatto per loro non esistiamo e allora oltre a lavorare su internet abbiamo deciso di mettere un punto fisso, un punto d'incontro fisso con i cittadini in carne ed ossa in strada. Ogni sabato dalle 16 alle 19 e 30 saremo in via delle torri, sarà un'occasione cordiale d'incontro, di conoscenza, di informazione. Mi ha quasi anticipato la prossima domanda che volevo farle, ma la sviluppiamo ovviamente meglio. In un suo articolo su Facebook ha sottolineato come alcuni organi di informazione non le danno spazio né al Circo Lumiani e neanche alla lista civica. Tra l'altro lei ha pubblicato sempre su Facebook, assieme a questo articolo, la libertà di Giorgio Gaber. Ci vuole spiegare questa sua analisi? La canzone Libertà e partecipazione di Giorgio Gaber ci azzecca perfettamente, come direbbe il mio vecchio amico Antonio Di Pietro. Guardi, c'è poco da spiegare. È ovvio che noi diamo molto fastidio, molto più fastidio probabilmente di tutti gli altri cosiddetti oppositori e di conseguenza il gazzettiere del PD, che è il piccolo giornale locale, con l'emittente televisiva di riferimento, cosa adotta? Adotta la strategia che hanno sempre adottato il piccolo giornale dal 2000, pensate, fate voi calcoli di quanti anni sono, 16, e telequattro da circa la metà di quegli anni, 8, e cioè cancellano semplicemente tutte le cose che noi facciamo. Non ne danno notizia, non danno gli annunci, o se li danno, li danno microscopici e vengono poi magari con la speranza che l'iniziativa fallisca, e per poter poi ovviamente ironizzare, fino adesso gli è andata sempre buca, nel senso che le iniziative del circolomiani, come i triestini ben sanno, sono tra le più partecipate che la città si ricordi. Per cui loro continueranno, ma l'intelligenza di chi ci sta guardando dovrebbe aiutarli a porsi la domanda, perché solo con noi hanno questo atteggiamento? Perché solo noi, ma non solo perché siamo sulla scheda elettorale, ma solo noi dal 2000 in poi siamo stati quello che per loro è il più grosso pericolo, e cioè gente normale che si batte per la soluzione dei loro problemi, per la tutela della loro salute e della qualità della vita, ma che è capace di capire e di individuare quali sono le responsabilità di questi disastri. Ecco, tutto quello che la politica non vuole sentire e di conseguenza i media seguono a ruota. Vi ricordate la casa discografica, la voce del padrone? Beh, insomma, i media locali questo sono e seguono i case del padrone. Poga, si aspettava tutta questa partecipazione dei cittadini alle attività del Circo Romiani? Ma guardi, francamente sì, perché dovrei mentire? Qui non si tratta di modestia. Noi, come i triestini sanno, fino al 2000 abbiamo portato a Trieste i 150 testimoni più rilevanti e importanti della società italiana ed europea. Vi do un dato solo. Enzo Tortora, la prima manifestazione uscita pubblica che fece dopo la soluzione la fece da noi a Trieste al Cinema Ariston una domenica mattina. C'erano le televisioni di tutto il mondo. Il Tg1 e il Tg2 aprirono i Tg della sera con questo servizio. Il piccolo giornale, allora di proprietà di una voce del padrone che seguiva la destra, allora non mise nemmeno l'annuncio. Allora, noi abbiamo sempre avuto, ma a ragione veduta, queste partecipazioni. Poi è questo che probabilmente ha fatto sì che per la politica siamo il pericolo più grosso a Trieste. Bene, abbiamo concluso anche per quest'oggi questa puntata di No Fariana. Ringraziamo Maurizio Fogar del Circo Romiani e noi come sempre vediamo appuntamento alla settimana prossima. Grazie a voi.